Io sono Nicola Vertova, Operation Manager di Ritec Vision. Ci troviamo nell'area di produzione di Ritec Vision dove vengono montate le nostre macchine. La forza di Ritec è l'attenzione per il cliente. Le nostre macchine sono fortemente customizzate per soddisfare le esigenze di prodotto e di processo di chi le acquista. Per questo non siamo solo fornitori, ma veri e propri partner che partecipano al successo delle aziende che si affidano a noi. Ci sforziamo di soddisfare le richieste di consegna più impegnative. Lo facciamo in un contesto di continua innovazione e superando le sfide di questi anni. La pandemia non ci ha fermato e con un'ottima politica di risk management abbiamo superato le conseguenze della supply chain disruption. Per supportare le sfide del mercato ci affidiamo a consolidate tecniche di produzione snella. E con il metodo AVM, che è il DNA di ATS, cerchiamo di coniugare sostenibilità ed efficienza produttiva. Per noi la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti viene al primo posto, così come le scelte di sostenibilità ambientale. Grazie a tutti.